Alessandro, intanto un commento su questo pareggio, in che misura ti soddisfa? Un pareggio risultato importante, visto anche il risultato negativo di sabato scorso, quindi venire qui, passare in vantaggio dopo 5 minuti e alla fine di pro tempo essere sotto 2-1, c'è la mare in bocca, poi nel secondo tempo siamo rientrati in campo col piglio giusto e siamo riusciti a fare questo pareggio importante, soprattutto per il morale dei ragazzi. E poi raggiunto il pareggio la squadra fino all'ultimo ci ha creduto, ha cercato sempre una relazione offensiva per mettere a segno il colpo del capo. Sì, è vero, abbiamo fatto il 2-2, abbiamo preso coraggio, ma già all'inizio del secondo tempo abbiamo preso coraggio, abbiamo cercato di fare quello che proviamo all'inizio della preparazione e i risultati sono venuti. Forse con un pizzico di fortuna in più, forse potevamo fare il risultato pieno, però va bene, campo brutto, importante, insomma risultato importante. Un pareggio che comunque li dà morale e quindi, come dire, fa lavorare meglio in settimana? Sì, sicuramente dà morale ai ragazzi e quindi in settimana la possiamo rilavorare con tranquillità e continuare questo percorso che li deve vedere più velocemente e avvicinarsi alla prima squadra. Ok, grazie. A te. 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 Grazie per la visione!